Di chilometri col suo taxi colorato ne ha fatti tanti, per alleviare il dolore di famiglie che si ritrovano improvvisamente fagocitate dall'angoscia di una malattia improvvisa. Questa volta però il suo allegro taxi, Milano 25, da Firenze l'ha portata in Abruzzo, a San Giovanni Tiatino, per incontrare i piccoli studenti dell'istituto comprensivo Galileo Galilei, ai quali ha raccontato la propria esperienza. Caterina Bellandi, per tutti zia Caterina, è la tassista di Firenze che regala le corsi ai bambini bisognosi di cure col suo taxi, Milano 25, ereditato nel 2001 dal suo compagno Stefano, nato al cielo, come lei stessa ama dire, dopo aver lottato contro un tumore. Quando Stefano stava per nascere nel cielo, lui mi disse, tu un giorno sarai me, sarai Milano 25. Andare nelle scuole significa fare esperienza, di cosa un bambino vede di te, perché a volte noi vediamo solo noi stessi, io, 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 no, noi, noi, noi. Vestita di colori e di fiori, come una fata, zia Caterina racconta ai più piccini la sua esperienza di tassista, che accompagna gratuitamente i bambini con patologie a fare visite ed esami all'ospedale, regalando loro sorrisi, allegria o semplicemente un abbraccio, quando ce n'è bisogno. Il dolore lo conoscono e lo vedono trasformato in qualcosa di gioioso, vengono a fare una carezza al taxi e dicono, ah, però è divertente. E non può essere solamente dolorosa un'esperienza importante. Io credo che il dolore abbia un senso per vivere sulla terra e per portarci altrove. I bambini ascoltano incantati e salgono su Milano 25 per caricare il taxi di quell'energia positiva e allegra che servirà ai bambini bisognosi di cure per affrontare il doloroso percorso della malattia, che a scuola diventa anche spunto di riflessione con i piccoli studenti, come spiega Romina Venditti, insegnante dell'Istituto Galileo Galilei. Una giornata all'insegna dell'allegria, della gioia, dei colori e delle modalità ludico-ricreative ed emozionali che mette in atto Zia Caterina. Sono stati felicissimi di incontrarla e di sperimentare questo incontro con il suo taxi e con le sue storie di piccoli grandi eroi. Nel suo taxi ci sono un sacco di supereroi, che però non sono quelli convenzionali che siamo abituati a vedere dalla Marvel, dalla Disney, ma sono supereroi in carne ed ossa. Chi sono? Siamo tutti noi quando diamo il meglio di noi, quando di fronte a una situazione che non conosciamo tiriamo fuori il nostro superpotere, che può essere un talento diverso per ognuno di noi. Nella difficoltà un bambino deve sapere di riuscire a poter superare la difficoltà. Io intanto la sperimento, non ne ho paura. Dobbiamo riuscire a dire ai bambini che quella che è la loro vita più profonda è quello che li aiuterà a trovare l'identità. Che possa essere diventare un artista, uno sportivo, una maestra, un insegnante, una tassista. Sono capaci di essere se stessi? Punto interrogativo. Sì, allora sono dei supereroi perché potranno aiutare gli altri. Gli avanzerà talmente tanta gioia che quella gioia la vorranno donare. Diventare se stessi è più semplice di quanto non si possa immaginare. Il messaggio oggi è rivolto ai bambini ma vale anche per gli adulti. Ma certo, basta che aprano il loro cuore. Certo, quando si diventa grandi io so, io sono, io faccio. Noi è meglio, io, te e lui. Cioè io, te e l'universo. Io dico sempre che non ci si perde quando abbiamo un GPS celeste. Come dirle grazie? Con una promessa che mi riterete ancora. Vi lascio il mio numero di telefono 3286892586 E qua vengo a casa vostra a trovarvi, a raccontarvi che l'amore cambia anche il dolore in gioia.